A Selargius molte persone hanno trovato uccelli morti lungo via San Nicolò vicino alla chiesa romanica di San Giuliano e in via San Marco. Dopo che i residenti hanno segnalato questi eventi, l'associazione ambientalista, gruppo di intervento giuridico, ha chiesto officialmente al corpo forestale e al comune di Selargius di indagare sulle cause di questa moria e di prendere misure per risolvere il problema ambientale. Ieri sera un incendio si è spigionato in un appartamento situato in Leonardo da Vinci a Olbia. La squadra dei vigili del fuoco del locale di staccamento è intervenuta, allertata dai residenti della zona che avevano notato le fiamme e il denso fumo emergere dall'edificio. I pompieri, una volta arrivati, hanno dovuto affrontare un intenso fumo acre che aveva invaso l'intero appartamento e un fuoco che stava consumando principalmente l'ingresso dell'abitazione. Il proprietario dell'appartamento è stato prontamente soccorso e messo in sicurezza, affidato alle cure mediche del 118. Le sue condizioni sono state ritenute non critiche sul luogo dell'incidente. Sono intervenuti anche i carabinieri. Restiamo in Gallura, nel Parco Nazionale dell'Arcipelogo di La Maddalena, dove è forte la presenza degli ibridi di cinghiale e si sta attuando dal 2022 un piano di eradicazione. Di questo si è parlato nel corso di un seminario svoltosi a Caprera. Questa mattina, Claudio Ronchi. Piano di eradicazione degli ibridi di cinghiale, stato dell'arte e azioni future. Era questo il titolo del seminario organizzato dal Parco Nazionale di La Maddalena il 30 gennaio a Caprera, presso il Centro di Educazione Ambientale. Una specie non autottona nelle isole dell'Arcipelago, questa, introdotta dall'uomo negli anni 80 del 900, e che rapidamente si è diffusa fino a raggiungere numeri preoccupanti, tanto che dopo diversi interventi è stato varato un piano quinquennale di completa eradicazione, iniziato nel 2022 sia con l'uso di gabbie che con quello di carabine. La presenza degli ibridi di cinghiale nel Parco Nazionale provocano danni notevoli a tutta una serie di specie autoctone, quali per esempio i marangoni dal ciuffo, la vifauna, l'erpetofauna, ma anche a tutta una serie di habitat, di sistemi che sono prioritari, che necessitano di particolare tutela e salvaguardia. Questo è il motivo appunto per il quale l'ente Parco ha iniziato per il terzo anno consecutivo gli interventi di contenimento e di eradicazione successiva degli ibridi di cinghiale. Dopo due anni di attività i risultati sono certamente incoraggianti, abbiamo avuto una riduzione complessiva nelle due grandi isole del 44% della popolazione, con un maggior risultato sull'isola di Caprera e un'imponente riduzione anche degli incidenti stradali che si sono ridotti del 75%. Ad intervenire sono stati anche Paola Brundu, dipendente del Parco, che ha parlato del quadro normativo e dell'iter attuativo del piano. Simonetta Brigaglia, che ha illustrato le attività di competenza del coordinamento territoriale per l'ambiente e del corpo forestale di vigilanza ambientale. E Salvatore Desini, dirigente veterinario dell'Aos di Olbia, che ha illustrato l'importanza della vigilanza e della prevenzione sanitaria per una migliore conoscenza dello stato di salute e della fauna interessata dal piano di eradicazione. Nei giorni scorsi i militari del gruppo della Guardia di Finanza di Nuoro a Ottana, durante un servizio di controllo nel territorio, hanno tratto in arresto un cittadino di 32 anni domiciliato a Quartu Sant'Elena, trovato in possesso di circa 3 kg di marijuana. Il porto di Olbia, Isola Bianca, si sta rinnovando e diventando più accessibile per i cittadini. Oltre a nuove aree di sosta per i mezzi pesanti, off-limits per il pubblico, ci saranno spazi per il relax e il divertimento. Si tratta di un'area a disposizione per coloro che attendono l'imbarco e vogliono semplicemente fare una pausa durante una passeggiata lungo il viale della Capitaneria. Da alcuni mesi il porto è sotto riqualificazione con un investimento di circa 1.800.000 euro. Ci spostiamo a Tempio, nel convegno di lunedì, il circolo culturale Don Primo Mazzolari riprende l'attività con un focus sulle idee di pace e solidarietà del sacerdote cremonese con la proiezione straordinaria di un docufilm di Armando Olmi. Fabrizio Garruccio Don Primo Mazzolari, il dissidente, il partigiano, il precursore della Chiesa dei Poveri. A tracciare i contorni di quella figura di pacifista, scomoda nei primi anni 50, perfino alle autorità ecclesiastiche, il convegno indetto a Tempio lunedì scorso dal circolo culturale che ne porta il nome, nei locali dell'Istituto Ero Mediterraneo. Questo evento rappresenta il rilancio, il grande stile del nostro circolo culturale intitolato a Don Primo Mazzolari dopo un periodo di stasi legato anche alla pandemia tra l'altro. Oggi ripartiamo con un evento eccezionale che comprende un filmato assolutamente inedito e affronteremo il tema della pace come lo vedeva Don Primo Mazzolari. È un convegno che ci fa affrontare un grande tema. Negli anni 50, nel periodo della guerra fredda, Mazzolari riesce a riflettere sul tema della pace con un'attualità straordinaria, non schierarsi semplicemente da una parte rispetto all'altra e cercare le ragioni dell'uno rispetto all'altro, ma uscire dalla logica del nemico per mettere al centro una terza realtà, che sono le vittime, che sono i poveri, che sono gli ultimi, sono le persone che pagano le conseguenze alla guerra. Ma il ricentro dell'incontro, la seconda proiezione italiana assoluta, dopo quella dello scorso giugno nella parrocchia del sacerdote cremonese a Bozzolo, dei 26 minuti del docufilm di Ermanno Olmi del 1967. È curioso che questo filmato non sia stato approvato, sia stato rivisto, poi sia stato messo in un angolo, quasi a dire come la figura di Mazzolari per tanti anni non è stata accettata e apprezzata come era giusta. Ha saputo fare in modo che la Chiesa italiana riflettesse su tante questioni che poi entrarono nel Concilio Vaticano II. E a Sassari è tutto pronto per il Carnevale in programma a 25 eventi dal 1 al 18 febbraio, tra balli in maschera, sfilate e azioni di rigenerazione urbana nel centro storico. Valentina Ruiu. È stato presentato il Carnevale di Sassari per il 2024, che quest'anno costerà al Comune circa 72 mila euro. Il cartellone prevede oltre 25 eventi spalmati dal 1 febbraio fino al 18. Le proposte più meridevoli sono state patrocinate in parte sovvenzionate dal Comune, a seguito di un'attenta selezione delle istanze ricevute in risposta all'avviso pubblico del 27 dicembre. L'evento di punta è un gran ballo in maschera che avrà luogo il giorno di Marti di Grasso in Piazza d'Italia delle 18, ma non mancheranno anche le sfilate carnevalesche che animeranno il centro cittadino e le borgate. La città ospiterà anche carri allegorici, eccezionalmente anche una sfilata dog e naturalmente occasioni in cui gustare frittelle e favata. In particolare si segnala la sinergia tra le associazioni La Volpe Bianca e Il Colombre che con delle vere e proprie azioni di rigenerazione urbana si propongono di coinvolgere il centro storico. C'è una caccia al tesoro che è un gioco di ruolo in realtà, basato su uno storytelling che parla di una scuola di magie stregonieri esistente in Sardegna. Tutte le squadre dovranno raggiungere ogni parte del centro storico e superare delle prove. Poi ci sarà invece un'azione specifica nella piazza della scuola primaria di San Donato dove ci saranno dei giochi che si potranno fare per tutta la famiglia tutto il giorno, giochi della tradizione, giochi in legno in collaborazione con l'associazione Tricirco. E poi ci sarà anche un enorme pannello dove un artista sardo che è Roberto Chessa, un artista di livello ormai internazionale, insieme ai bambini e alle bambine realizzeranno un pannello che poi verrà lasciato alla città e il tema sarà proprio quello del centro storico del carnevale. Domenica scorsa a Olbia si è tenuta un'antica festa dedicata allo sposalizio di Giuseppe Maria che ha coinvolto 200 coppie di sposi. Vediamo. Quasi 200 coppie di sposi si sono ritrovati a Olbia per vivere allo sposalizio di Giuseppe il Carpentiere e Maria la Madre di Dio, un'antica festa della Chiesa che affonda le sue radici nel XV secolo. Fu Jean Gerson, gran cancelliere dell'Università di Parigi, morto nel 1429 a lasciare disposizioni testamentarie per la celebrazione di una messa in onore di questo matrimonio, il 23 gennaio. Da qui la ricorrenza è stata inserita nei calendari di diversi ordini religiosi, iniziando dai Francescani e proseguendo con i servi di Maria, i Domenicani e i Carmelitani, anche se la celebrazione non è mai stata inserita nel calendario ufficiale della Chiesa per evitare ridondanza con la festa della Sacra Famiglia il 30 dicembre. Nella città galurese l'incontro è stato organizzato dalla parrocchia di Nostra Signora della Salette e da quella di Sant'Ignazio da Laconi, a coordinare la giornata il direttore diocesano dell'ufficio di pastorale familiare Don Gianfranco Cascioni. La giornata di oggi si è svolta in modo, possiamo dire, pertinente alla spiritualità familiare. Prima di tutto un momento di preghiera, un momento di invocazione allo spirito anche sui coniugi, i coniugi invitati, gli invitati alle nozze che hanno invocato lo spirito sui coniugi Oreglia, perché davvero potessero darci il meglio di sé. Hanno continuato con la loro catechesi, hanno proposto una catechesi, possiamo dire, bellissima, meravigliosa, coinvolgendo anche tutti gli sposi presenti in sala. Le copie hanno vissuto un momento di riflessione e preghiera con il contributo di Nicoletta Musso e Davide Oreglia, artigiani delle relazioni, come amano definirsi. Una coppia di sposi che vive a Mondovì, insieme ai loro cinque figli, impegnata nella pastorale familiare, tenendo corsi e incontri in tutta Italia. Oggi abbiamo raccontato la bellezza del sacramento delle nozze, la bellezza della relazione fra uomo e donna e l'indispensabile azione di manutenzione ordinaria che deve essere fatta perché la nostra relazione cresca. Perché la relazione, come dice Papa Francesco in Amoris Letizia, ogni amore che non cresce corre seri pericoli e crescere è prezioso, essenziale e con piccolissimi gesti si può garantire questa crescita alle nostre relazioni. Al termine dell'incontro, gli sposi con in mano delle piccole candele sono entrati in chiesa mano nella mano e in un clima di preghiera e fede. Hanno rinnovato le promesse nuziali. Il sacramento del matrimonio non è una garanzia, non è neanche una semplice benedizione, è una presenza reale di una persona per chi crede che è Gesù che fa il tifo per la nostra coppia, si allea con noi per due obiettivi. Uno per quello di farci stare meglio, uniti, essere l'immagine del suo volto nel mondo e quello di essere misericordia per le tante persone che incontriamo sotto i vari aspetti e secondo la vocazione di ciascuna coppia, di ciascuna famiglia. Passiamo alla pagina sportiva. La società dell'Olbia Calcio annuncia l'ingaggio di Stefano Guidotti, centrocampista classe 99 del San Gallo, cresciuto nel Lugano. Guidotti aveva presenze vanta presenze in Europa League e nella nazionale Svizzera Under 21 e dopo una stagione al San Gallo inizia così una nuova avventura in Sardegna con un contratto fino al 30 giugno 2024. È tutto per l'edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.